Let's play E letteralmente il tuo veicolo per poi scendere In battaglia con i carri armati Più forti del mondo guardate Io sono qui dopo aver appena terminato Il tutorial sono inesperto del gioco ancora Però mi piace cominciare i giochi con voi Insomma Ho costruito la mia prima jeep da battaglia Con tre mitragli attirici Aspettate però vi faccio vedere Un test drive completo quindi io Esco fuori c'è un nemico che per fortuna È fermo eccolo lì e gli spacco Il culo ecco guardate E potremo man mano che andiamo avanti Nel gioco ovviamente è un gioco multiplayer È un gioco free to play quindi potete scaricarlo Anche voi giocarlo Com'è guardate ora gli faccio saltare le ruote Bam distrutto Ah ma quello ti potrei far saltare il veicolo Ok Io ora ho cominciato ad andare a fare le battaglie Si guadagna reputazione È un MMO basato Su questi principi insomma si gioca In squadra quindi potremmo giocarci insieme Ed è veramente veramente figo Mi sembra di guidare uno dei veicoli di Mad Max Si possono fare veicoli assurdi C'è anche un sistema di acquisto di roba Quindi c'è anche un marketplace dove si possono comprare armi Vendere armi Comprarsi carri armati Pezzi di ricambio Cioè veramente ragazzi c'è di tutto E poi guardate Quando esplodono i veicoli È una cosa fantastica E soprattutto finendo le varie missioni E le varie Le varie battaglie Si guadagnano dei pezzi Che ci permettono poi di andare Nella costruzione Ecco qui Vedete qua possiamo costruirci letteralmente il nostro veicolo Come ci pare Non ho ancora idea come si faccia Però 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 penso che Ecco così Ah ok Così ho aperto lo storage Ah qua posso Upgradare i miei oggetti Fantastico Sì ma non mi ricordo come ho fatto a costruirli Ma va bene Iniziamo con la prima battaglia Piccola informazione di servizio Ci sono diverse fazioni Noi stiamo cominciando con ingegneri Che da quello che ho capito Sono i più stupidi Dopodichè Cioè quelli iniziali Dopo che abbiamo creato Gli ingegneri Cioè dopo che siamo arrivati A livello 10 Livello 10 qui in alto Della nostra fazione Potremo scegliere Se essere dei lunatics Dei lunatics Dei nomads Degli scavengers E dei steppenwolves Che non ho idea di quale siano Le differenze Ma va bene così Io vado in battaglia Allora il gioco È organizzato in questo modo In pratica ci sono Si guadagna reputazione Facendo le missioni Semplicemente Quindi nel nostro garage Con i nostri veicoli Si possono fare i rides I ride però costano Questi puntini verdi Che costano Diciamo Fuel Penso che sia una specie Di competitiva Una roba del genere E costano Vedete Costano un po' Di questi Ma penso E questi si ricaricano Questi punti verdi Quindi il fuel Si ricarica ogni giorno Comunque Lasciamo perdere Perché per fare i ride Bisogna essere Almeno di livello Dieci ingegneri Sì Oppure cinque Come Lunatics Nomad Scavenger O sempre dieci ingegneri Quindi lasciamo perdere Facciamo le missioni Esistono anche i brawls Anche questo serve Il dieci di ingegneri Quindi ora siamo Semplicemente Un uno Quindi dobbiamo guadagnare Un po' di esperienza L'unica missione che abbiamo Perché le altre Poi si sbloccano Dalla tra in poi E questa qui Get the machine gun Che ci fa vincere Un po' di pezzi Un po' di mitragliatrici Pezzi di ferro Che ci permettono Di craftare roba E così via Quindi cominciamo Vi faccio vedere subito Come si articola una missione Ma vieni Ok Questo Io non ho ancora capito Se sono player reali Oppure no Per esempio Io chi cazzo sono Io Io non lo so Va bene In ogni caso La mappa è abbastanza semplice Abbiamo due minuti e cinquantacinque E dobbiamo Da quello che ho capito Del gioco ancora Quanto cazzo Sgommi Tannazione Dobbiamo andare Insieme alla nostra squadra A distruggere I player nemici Oppure La base nemica Eccoli là Uno Vieni qua Oh mio dio Che cazzo Se gli succede Distrutto Oh my god Eh ma è un pirla Si è distrutto così Maximim Ah io sono mamid Mi vedo in alto a destra Sì ma sto andando Un po' a mint Arrivo amici Oh cazzo Ce li ho dietro al culo No Oh porca Puzzo Amici Scusi Mi dai una manina R to flip Ok Sì Abbiamo vinto Eh Ho vinto la mia prima battaglia Capottato Va bene Cominciamo con la prossima battaglia Cambia la mappa Questa non Mi sa che non ve l'ho fatta mai vedere Noi siamo in assalto sempre E poi ci sono i difensori Della power plant Da quello che ho capito Quindi È una modalità In cui dobbiamo cercare Di distruggere Tutti gli avversari nemici E in alto a sinistra O in alto a destra Si vedono insomma Le varie kill Delle persone Come cazzo fai a vederlo già Ok ti do una mano io Bam Bam Bello Oh Chi l'ha preso Mammit Oh No in prima linea No che c'è il veicolo lento Cioè non lento C'è un po' di schifo Chi l'ha preso questo Oh Oh vi vedo Vi vedo la Quanta gente che c'è Quanta gente che c'è Che sta per esplodere male Male Vi state fottendo tutte le kill Maledetti Vi vengo a distruggere Dove stanno i nemici Ah ma si vedono da sotto qua Nella mappina qua In basso Sì ma me li state facendo esplodere tutti Te ne vedo uno lì Vi viene dal fianco Dannazione No 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 Bello no Ah poi se vedete in basso Le armi praticamente Si surriscaldano Quindi questa è una cosa Parecchio carina Perché Lo rende più realistico No Ole Seconda vittoria per Mami Zanzanz Non ho ancora capito Se siamo in multiplayer Onestamente Osti kiwi Ho preso una marea di stickers Ho preso L'assistant Ho ucciso tre nemici senza morire Poi ho preso il primo sangue Ho preso L'assi Ho ucciso quattro nemici senza morire E poi Cinque nemici senza morire C'ho le ruote nuove Potrebbe essere interessante Potenziare il mio veicolo No Cominciamo la prossima missione Ok qui mi sembra di stare su Conan Exile Cioè le ambientazioni sono simili Noto anche con piacere che abbiamo tutti i veicoli di merda Ed è leggermente diversa Perché qui non sembra ci siano Attaccanti e difensori Ma ci si incontra una mappa Quando trovi nemici Ti spatti il culo E li spacchi Qui c'è una base neutrale Che potremmo Senza Ma tu ti l'anda? E ma siete pirla? Che cazzo? Andare a vedere Che cosa succede da lì? No eh Sì Ok Magari scendiamo No eh Arrivo amici Ok sono un pirla Girati Girati Sì Andiamo Andiamo dagli amichietti nostri Perché vi devo dare una mano Non ho fatto manco un assist Una kill Niente Oh my god Ti faccio saltare le ru... Oh 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 Attraverso le mura Si può sparare? Non lo so Però forse ho preso un assist Chi cazzo sei? Sei amico? Sembra di sì Abbiamo catturato la base? Eh penso proprio di sì C'è gente che spacca i culi E di si distrugge Va bene così Mi sta davvero entusiasmando Sto giochino Ah non ho ricevuto danni in battaglia Neanche quella super caduta Mi ha fatto ricevere danni Oh Dannazione Fantastico Ok Ho la prova che stiamo giocando In multiplayer ragazzi Sì 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 Siamo in multiplayer decisamente E qua vedo i primi nemici Eccoli qua Venite qua belli Venite che vi faccio saltare le indrame Guarda quanti ce ne sono Io miro le ruote Così non vi potete più muovere Pezzi di stronzi maledetti Tu camioncino di merda Vamori ammazzato Che fai veramente schifo Ma quanto è forte la nostra squadra? Ma quanto è forte Dovete ammetterlo? Dovete ammetterlo? Ma forse perché c'è il super mammy Da battaglia Io sono nell'esercito dei Dei mad mad Penso forse Oh giovane Mi stai facendo ruotare come un pirla Giovane Non sai guidare tu Ma non mi Non mi mandare affanculo tu Cioè capito Attacco alla base nemica Siamo arrivati alla base nemica Gli facciamo il culo della madonna E abbiamo vinto ancora una volta Cioè vittorie consecutive A go go Oh my god Ho sbloccato il cannone Da 57 mm Oh mio dio Pesa 468 kg Il mio caro armatino Lo potrà reggere? Non saprei Ok questa mappa Sta andando abbastanza liscia Perché stiamo semplicemente Catturando la base nemica Senza distruggere Senza sporcarci Le mani Ci siamo messi In due punti Abbastanza strategici Io guardo da una parte Lui guarda dall'altra Ciao pillaboni Eh si Vieneci ad aiutare A catturare la base nemica E stiamo semplicemente Catturando la base nemica Siamo in tre E abbiamo vinto GG Senza distruggere il nemico Oh my god Oh mio dio Cosa ho scoperto Possiamo assegnare Alle diverse armi Un tasto diverso Quindi ora Ho tre mitragliatrici Che sono state tutte Assegnate sul tasto sinistro Mi pare giusto Però Posso assegnare Tipo Alla mitragliatrice davanti Il tasto destro Oppure Se ci mettiamo un cannone davanti Gli assegniamo il tasto Oh si 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 Mettiamoci il cannone No ma è fighissimo Come ci si può costruire il veicolo Guardate ragazzi Cioè È molto 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 semplice Veramente Se Ah però c'è tutti i starter wheel Ok Quindi posso Cioè Non posso mettere solo una ruota nuova di merda Ma che porca di quella paletta Ok ragazzi Ho messo il possibile Perché Ho raggiunto il massimo Di Di pezzi In pratica il cannone non lo posso mettere Perché ho bisogno di più energia Sicuramente devo sbloccare dei veicoli Maggiori O devo avere semplicemente più potenza Quindi Devo fare altre battaglie Per avanzare di grado In ogni caso Ho messo dei rinforzi qui sui lati Che mi permettono Di avere più struttura al veicolo Infatti Attualmente La power è di 1179 Se dovessi togliere uno di questi Vedete Mi Diminuisce leggermente Ma proprio leggermente Però È un qualcosa sempre di utile Ecco Ora lo devo rimettere benissimo Quindi Vado avanti Con le missioni Perché Voglio avanzare Di grado Almeno al grado 3 Per sbloccare altri pezzi E finire Di mettere Gli altri potenziamenti Dall'altro lato E poi Vediamo Magari riesco a metterci Anche un bel cannone Ok Andiamo in battaglia Con un altro assetto In pratica Ho vinto un'altra mitragliatrice Di quelle potentice E le ho piazzate Due sul cruscotto Anteriore Però dovrei iniziare A vedere già i nemici Da qua Perché se non ricordo bene La mappa Se ricordo bene La mappa è così Eccoli Oh cazzo Vengono su di me Oh cacchio Sono veloci Oh distrutti Alla velocità della voce Ma ne arriva un altro Via Via Io me la scappo Me ne scappo Però faccio l'assist Grandissimo Mamid Grande In pratica Quindi ho messo Le due mitragliatrici Più potenti Davanti E ho messo La terza sopra E quindi sto Spaccando i puli così Penso che sia un buon assetto Ho fatto Ho fatto una kill E forse qualche assist GG Andiamo verso la base Ah ok Ok Ho capito Questa mappa Dove c'è la base neutrale Quella che vi dicevo Che assomiglia a Conan Exile In pratica Bisogna andare a catturare La base centrale Quindi È abbastanza semplice Ma perché Questi hanno Le macchine colorate Come faccio a colorare Le voglio pure io colorate Oh Ah belli Quindi bisogna andare Nella zona centrale E catturare La benedettissima Giovane Non sbandare sulla mia macchina Che me la danneggi Pezzo di merda Il problema è che Anche il nemico Vuole catturare la base centrale Quindi mi assomiglia Un po' a capture the base No capture the flag Capitemi a me Venite qui Dove stanno i nemici belli Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Alle ruote Mirate alle ruote Mirate alle ruote Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Bello 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 Sì La gente che viene distrutta Alla velocità della luce No 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 Non prendete di mira Oh si è scaricata l'arma Oh fantastico Mamma mia Mamid due kill Dove stanno gli altri nemici Scusa Mamid Però gentilmente Ti puoi girare come cazzo Si deve Oh ce n'è un altro lì Andiamo ad aiutare il nostro amico Vieni che ti taglio la strada da qua Vieni da Mad Max E già esploso Va bene Va bene La squadra blu Spacca sempre i culi Non so perché Però va bene così Sono più contento Quando spacchiamo i culi Terzo kill per Mamid Oh mio dio Vai the kill Vai the kill Andiamo a catturarci la base Oh mio dio Un nuovo sticker Ho preso un nuovo sticker Praticamente ho ucciso due nemici In meno di 10 secondi L'uno dall'altro Ho distrutto tre nemici Con i proiettili E Ho sparato a 50 parti Ah ho distrutto via Ho buttato via 50 parti di nemici Interessante Salve Ok Avevo ragione Aumentando di livello Vedete Aumentano la quantità di parti Che si possono installare sul veicolo Siamo arrivati a 25 Ho sbloccato i nuovi Blueprint Le window Il radiator Ah il radiator grill È utilissimo Perché mi fa scaricare La temperatura Delle 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 mitragliatrici Quindi molto molto importante Vediamo se riesco a craftarmi Quello È un'altra mitragliatrice Ne vorrei avere 3 su 3 Oppure le mitragliatrici Chi se ne frega Aspetto di vincere Bene Squali e pesciolini Questo era cross out Quindi Cratta Costruisci E combatti Con il tuo car armato O meglio Con i tuoi veicoli Solo però da terra Se vi piace questo gioco E volete che continuo A portarvi qualche video Man mano che vado avanti E costruisco dei veicoli Più carini E avanzo nel gioco Scrivetemelo nei commenti Fatemelo sapere Intanto Sono riuscito A farvi il video Anche oggi Anche se non sarei Anche se non avrei dovuto farlo Insomma Perché Sono riuscito a ritagliarmi dal tempo Io vi ringrazio per la visione Lasciate un like Commentate Condividete Per sostenere me Il canale E la serie E soprattutto Se venite qui E mi trovate Io sono Mamid Quindi magari Aggiungetemi tra gli amici Sì penso che si faccia da qui Ehm Cercatemi Io vi accetto Magari giochiamo insieme E ci vediamo nel prossimo episodio Non so Se questa serie continuerà Dipende da voi Un saluto Shaxian a tutti Ciao Ciao